No, è scomparso il programma di registrazione Non ce la facciamo a iniziare sto video, è incredibile Allora, ciao a tutti, sono Slack Cosa e sono qui in compagnia con Anna Cosa Anna Cosa E io invece sono Anna e sono in compagnia di colui che respira Hanno messo nuovi colori alle armi, hanno fatto le mappe, hanno fatto una nuova mappa Poi hanno modificato un po' di mappe, tra cui un bel po', adesso vi faccio vedere da qua Allora, questa qui non si vedono, però ci sono delle mappe che non... Blu che l'ingreggio è guardata se si è modificata Comunque abbiamo aggiunto questa che si chiama Blackwood Pin Poi ci sono alcune che adesso da qui sembra che non l'abbiano modificate Però le hanno modificate, non so perché non le fanno vedere ma Alcune le hanno modificate ma dalla foto non si vede Però le hanno modificate, quasi tutte praticamente Poi cosa hanno aggiunto? Vabbè, questa roba alla Home Con le zucche di Halloween Poi vabbè hanno aggiunto il colore di Halloween che adesso non ce l'ho io Però lui ce l'ha Perché non è shoppato? No, ma perché non ci vuoi di comprarlo, tanto costrerà pochissimo Però, tanto c'è un sacco di crediti Hanno aggiunto questo colore qui di Halloween Che io adesso non prenderò perché ho tutto questo E poi cosa hanno aggiunto? Hanno aggiunto che si possono utilizzare due armi nella stessa roba lì Cioè puoi anche usare al posto della pistola Utilizzi l'arma E poi si possono poi raccogliere le pistole per terra e anche i coltelli Allora, al posto della pistola ho preso un'arma da scelta a caso Quindi gli esempi che posso usare Barrett, Andrew Allora posso usare un cecchino, un assalto Allora posso usare un cecchino, un'arma d'assalto sulla pistola Poi hanno aggiunto la possibilità di raccogliere oggetti vari come coltelli Cosa ho detto io? Tutto lo che ho all'interno Non mi interessa, è crashato E io scopro tutto Ora riusciamo E quindi niente, hanno aggiunto queste cose Adesso faccio una pausa e ci ritroviamo nella partita Poi un'altra cosa che hanno tolto A mio dispiacere, ma a suo piacere perché gli dà fastidio Hanno tolto la metà coltellino Io la amavo Era l'unica mappa dove vincevo sempre Dove vincevo sempre, cosa fanno? La tolgono Lo fanno apposta, lo fanno apposta Lo fanno apposta Allora Tutto a sto casino E finisce che lui non lo registra 3 ore 3 ore Non è così Vabbè quindi Adesso giochiamo un pochino noi due Questa mappa bellissima Che ho creato io Adesso id Allora l'id è 59,69 Grazie per la giocare a noi Grazie per la giocare a noi Ehm Ehm No momento in cui rifletto per Per un'idea Cioè per un piano malvagio per ucciderti Dai entra Allora io vado in una casa Dove nell'altra Ci diciamo così È divertente Dai nelle case Perché qui sono bellissime case Io vado in casa mia Che hanno Cioè questa casa C'ha tutti i vetri rotti Ma dai Ma fa schifo Vado a guardare il programma delle zebre Ah Sediamoci Wow che bello zebra È bellissimo Cioè È bellissima Urgent news Johnny zebra released Wow È russo Johnny 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 Ok basta Basta Questa canzone Allora Dov'è che sei? Ah là Vedo una lucina Perché adesso c'ho la La lucina verde Della tua arma Dov'è che sei? È casa mia Dove sei? Ah io invece sono a casa mia Muori Aspetta Dobbiamo otti l'arma Tanto Ma dov'è l'arma? Ma non c'è l'arma Ah no eccola Ah no Ma no Ma fa schifo il bar Non lo so usare Curiamoci un po' Ma fa schifo il bar No Ma fa schifo il bar Ci credo Mi stavo curando Per forza che mi ha ucciso Quando ti curi Ti uccidi subito Ti uccide subito Si rompe il vetrino Sono Oh non ti ammazzo mica Ma sei morta Mi hai crashato Modern Allora adesso rientro Se mi ricrascia Io giuro che è modern Ma faccio morire Faccio il rip modern No ma io fa tutti i giochi Che ho registrato Modern è l'unica Comunità Per i problemi di registrazione In questo modo Tutto Tutto è possibile Modern è l'unica Modern ce l'ha con tutti La legge di modern Modern ce l'avrà per sempre Con i giocatori del gioco Sempre È una regola Dalle regole di modern Cioè Modern ce l'avrà per sempre Con i giocatori Quindi No No Avevo otto di vita Avevo otto di vita Adesso ho detto Dai mi salvo Invece no Sono morta Arci di erbolina Ti ammazzo No perché È il prova non sclerare E neanche te la devi fare Fa anche rima Non ti devi arrabbiare Devi stare calmo Quando ti arrabbi Devi Cosa ti interessa sopra Eh Ah Ci ha fregato Ci speravi che saliva Ancora di sopra Eh Ci speravi Dì la verità Che ci speravi No io ti ho Ti ho fregato Ti ho fregato Ti ho fregato Ti vedo eh Tu vuoi provare a sfuggire Da me Ma io ti vedo sempre Ti vedo sempre Mi sono bloccato Mi sono bloccato Dio merda Io non posso Anche più girarmi Non fa niente Ti sblocco io Ti sblocco Sei tranquillo Non fa Rotolare Le biglie Cioè nel senso Cioè Non so Mi sono messa così A guardarti Ci credo che mi ammazzi Cioè L'ho fatto pure apposta E guarda che l'ho fatto apposta L'ho fatto solo per far Ti sblocco io La posta Sì La risci con la posta Sì con la posta La posta italiana Ehm Da che sei Ah No No Non riuscivo a mirarti Ero lì che cercavo di mirarti Ma non ti Non ti miravo Non ce la facevo Allora adesso Devo fare un piano malvagio Devo cercare di Devo cercare di Convincere i sviluppatori A raggiungere la modetta coltellino Così posso vincere What Ma what Ma what Io ti ho visto Teletrasportati D'una parte all'altra Da così Dalla finestra all'altra Tipo Va bene Ditemi Se così Si sente un po' meglio L'audio suo Perché Non sto usando Il computer Computer Il computer Ma Ma sto usando Le casse Quindi Dovete dirmi Se si sente meglio Così No Facciamo Due tre stelle Facciamo Due tre stelle Sì Ma mancano 23 secondi Dopo lo facciamo Dopo ci chiamo Monde tre stella Non mi interessa Oh Muori Devi morire Perché non muori Cos'è che fai Cosa lanci le bombe Hai vinto solo perché C'è il barret Ma Perché Perché shoppi Perché tu Cosa fai Io non shoppo No Tu laghi Io shoppo Tu laghi E tu shoppi Il premium sempre Invece Solo perché fai pochi punti Come le faccio anche io Pochi punti Perché adesso Un'altra cosa che hanno aggiornato Che a caso Ti danno pochissimi punti Cioè Boh Le armi non ti danno più I punti in più Quindi Fa schifo Cioè Perdi Ti dà 300 punti Vinci se ne dà 600 Soprattutto me ne dava 900 E 500 Ma a tutte e due Cioè anche lui Dava 500 Ma è 300 Giochiamo E cambia allora Io metto Aspetta Metto il coltellino Ecco Mi hai trovato davanti Chi è che fa 1 de 3 stella Io conto E conto Allora vai lì Vai al muro Allora devi arrivare qui Sì È la bomba Toglila la bomba 1 2 3 No La togli la bomba La togli La togli la bomba Allora toglila Toglila la bomba Ecco l'ho tolta No Sì Perché se no mi fai esplodere te Fai apposta Per vincere così Che lo dici te Che lo dici te Che lo dici Vabbè mettiti No però te ti devi mettere nel muro Devi stare nel muro così Appiccicato al muro Allora 1 2 3 2 3 stella 1 2 3 stella 1 2 3 stella 1 2 3 stella Ti ho visto male Non ha senso sto gioco Dove sono finita Io vado a fare un bagno in piscina Ah che bello Arrivo Va a qualcuno che ci ha coi te al massimo No non ce l'ho al massimo Ce l'ho a miglia Dove che sei te scusa? Ah da un'altra parte giusto? Sono stupida Ho sbagliato parte Ecco ci sono Ci sono Dai fai 1 2 3 stella Dove è la bomba? Aspetta Fai chiamare la bomba Toglila Ma stai lì Da tanto Basta che ti metti te Lo capisci? Vabbè Dai No non è vero Non è vero Ma cosa sto dicendo? Bugiardo Non è vero niente Guarda che ti è cresciuto un naso Da Pinocchio Ora lo faccio io Anche se non ho vinto Però lo stesso Lo faccio io Adesso metto anche io la bomba Come la metti te Anche se non ha senso Ma togliti però Sempre in mezzo Ok 1 2 3 stella Dove che sei? Ah no 1 2 3 stella Ti ho visto 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 Non ha senso Questa cosa Vabbè Dai vai Vai là Ci sei? 1 2 3 stella Ti ho visto Ti muovi Ti muovi Fai 800 passi alla volta Cioè scusa E pretendi che non ti vedo E sei finito Scusa Dai Ma dove sei? Ti ho perso Dov'è che sei? Non ti trovo La casa tua Quindi questa Vedi questa è la tua Ti ho? Ti ho qua che dormi? No E sei in piscina? Quanto Questa Allora questo qui non c'è la piscina L'altra piscina E non è a casa Perché sei la casa più bella E non è a casa Perché sei la casa più bella E non è qui E non Dove è qui? Che non ho manco visto Il mezzo all'erba Ah Ma hai messo Cambio di mappo automatico E non la cambia Vabbè Facciamo un nascondino Ma è possibile? Eh non è vero È possibile Non ti nascondi Dentro qualcosa Cioè Ci sono i buchi Però chi conta prima Te o io? Io della morte Chi conta prima Io o te Io che so contare Ok vai Non mi uccidere Come scambiare l'arma Oddio ma Tre ore sempre Dan 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 Ok Dai Mettiti a contare Dove ti metti a contare Scusate Dai che vai Dove conti? Dove che conti? Scusa Dove che conti? Voglio dire dove conti? Ah qui in camera? Ok Vai Conta Ok Uno Fino a 60 Sì Sì ma non così Ma cosa è contare? No no Mi pensi a contare 20 25 23 24 25 26 27 28 29 30 29 32 33 56 56 57 58 59 59 59 Mi sono nascosto in un punto che se non mi vedi Se non mi vedi Sei veramente cieco 50 35 50 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 Pietro al muro Dietro al muro Sì Però di tempo c'hai quando è a due minuti e venti è finito il tempo C'è non da boccio Eh sì scusa è minuscolo come ma cioè non è che ci è tanto grande cioè Comunque i posti sono poco Non è tanto grande, ma non è tanto, mi hai perso in un secondo, nemmeno. Ma direi mica sono fless, se non è più tempo a dire. Dai, l'ora a 1 minuto e 20, dai. Qua è abbastanza nascosto perché... No, aspetta, forse ne ho trovato uno. Qua. Non ha senso. Ma se non mi vedi, penso che sei cieco. Ok. Ma io lo so. Ok, non ci facciamo a rimanere. Mi vorrei che fanno esplodere, quindi vabbè. Mi sei passato davanti, che sono questo. Mi sei passato davanti, che ti ho visto, che sei passato così. Non ho un freno, è stata la qualità mia, non mi starci, non mi strassi in tale. Ma io ti do tempo fino a la fine partita, perché sono buona. Dai. Mi sembra mi sposto un pochino così, non vedo più facilità, non vedo più facilità, non vedo che faccio così. Cioè, è facile. Non c'è. Ma perché è fatto? Guarda che tu dovresti andare a scendere in scala bomba, se vuoi andare a nascondere. Sì, lo so. Come si fa a nascondere. Allora. Vabbè, se vuoi lo faccio. Non mi ricordo più però quale spawn era di qua. No, era l'altro. Lo stupido. Così ho capito anche dove sono, però vabbè, a parte quello. Vediamo se riesco a non farmi vedere. Adesso, quando ti scommetti che sei lì. Ecco. No, aspetta, 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 aspetta. Ora ti dico una cosa. Ti ho visto passare. Ti ho visto che sei lì. Ho visto una sagoma. Però non ci ho fatto caso che eri lì. Ho visto una sagoma. Ti giuro, non ci ho fatto caso che eri lì. Ho passato, ho visto una roba che... Ho detto, boh, magari non l'ho immaginato. Invece no. Va bene. Adesso ci scommettevo che eri lì. Quindi non è che è difficile. Vabbè, ora finisce la partita. Vabbè, ora faccio io e poi dopo finisco il video. Ma no, ma cambia mappa, pioggia di piombo. Allora facciamo la seconda partita a pioggia di piombo. Dove faccio io. Dove conto io. Sì, ma io non si può... Non lo so, non lo so, ma l'hanno modificato, hai detto. Se no facciamo l'ultima partita normale per chiudere. Sì, infatti non puoi nasconderti. Perché è tutto aperto. Allora facciamo l'ultima partita normale. No. Tanto mi incoglio. No. Tanto mi incoglio. What? What? Ma what? Ma che è sta chiusura? Ma what? Cioè non ha senso. Vediamo cosa c'è qua di sopra. Tutto aperto. Piove! Che bella la pioggia. Ma vabbè, qui sopra è uguale a prima praticamente. Non è che ami tanto. Hanno tolto sta roba qui, hanno tolto... Qui hanno tolto quella roba grande lì. Aspetta, fammi guardare prima, non a uccidermi. Poi... Vabbè, qua hanno tolto ancora. Non a uccidermi. Non a uccidermi ti ho detto. Non a uccidermi. Va bene. Qui hanno tolto... Perché hanno chiuso una tapparella? What? Qui hanno chiuso tutte le tapparelle. Parte 1 e 2. Dov'è che sai che ti ho in po' passare? Eh? Non c'è qua l'interno. Qua dove, qua? Eh? No! Ora piango. Yuto! Cos'era? Speedy Gonzales. Va bene. Volevo che vedete come il cap lo fa. Cosa? Un nascondino. Infatti io non lo faccio nascondino in sta mappa, fa schifo. Ti uccido. No, io ti voglio uccid... Madonna. È una risata malvagia questa. No, è una risata malvagia diversa. Dio! Ciao! Ok. Sì, ma così come si fa ad uccidere dalle finestre? Non ti fa più uccidere le finestre? Finestre, finestre. Finestre! Non hai più lo scudo. Finestre! 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 Va bene. Finestre! 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 Le finestre! Devi avere paura delle finestre! Capito? Ho capito! Ne parla anche te così. Ne balli. Ne parla anche te così. Di qualcosa. È muore. Aiuto! morto! Vabbè che vai? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Mi sto scaricando l'arma? Dove sei facendo? Da cosa lanci le bo? Non so se pensare di ucciderlo o di ucciderlo. Se mi vuoi. Comunque faccio questa partita e poi chiudo il video. Cioè facciamo la fine del video che di solito dura sempre un minuto perché... Si sa se. Si sa se. Si sa se. What? Cosa vuol dire? Va bene. Tu sai cosa vuol dire? Tu sai cosa vuol dire? Ah quello? Va bene. Scusa. Momento di silenzio. Momento di riflessione. Poi momento di riflessione per pensare al mezzo giusto per ucciderti. È finito un round. Ma no, ma come? Ma no, ma come? No. Allora, adesso, quindi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete, iscrivetevi. E niente. Ciao. Se non canta questa canzone non è felice. Ciao a tutti. Ciao. 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 Grazie a tutti